ciao amici sono maria e siamo qui oggi per un nuovo video ad acquerello non potevamo certo non dedicare un video all'estate visto che fa così caldo per cui ho pensato di dipingere dei gelati siccome è anche la prima volta che lo faccio e ho pensato di condividere questa esperienza con voi allora dunque ho usato la tecnica bagnato su bagnato come potete vedere nel primo cono poi ho lavorato anche con col pastello quindi bagnato su bagnato poi acqua molta acqua ho usato perché questa era una carta 100 per cento cotone quindi molta molta acqua poi diversi tipi di marrone marrone chiaro marrone scuro per le per le sfumature e per l'altra dimensione e la stessa cosa per per il gelato poi le luni posca per per dare un po di luce per definire un po il tutto per insomma fare brillare anche comunque il gelato perché un gelato il gelato è bagnato quindi per forza di cose deve brillare stessa cosa per il secondo cono che ho disegnato dipinto mi sbaglio sempre sono andata qui ho usato una tecnica diversa però perché mentre nel primo ho usato anche dei marroni diversi comunque dalla palette white night che io uso perché sono degli acquarelli che adoro quindi ho cercato di usare delle tecniche diverse il terzo che sto dipingendo è un non un ghiacciolo è un gelato come tipo il manium sono sempre creme che a me piacciono molto dove insomma mi sono sbizzarrita sono andata a creare un po dei punti luce che poi ho ripreso sono i nuovi gelati di quest'estate li ho vissi li ho vissi su youtube quindi ho voluto cambiare ho voluto cambiare il colore poi dopo aver fatto il bagnato con il bagnato su bagnato con acquerello i colori si sono asciugati ho potuto dare le sfumature sono andata a fare le parti bianche a preparare le parti bianche con l'uniposca nel primo e nel terzo invece qui in mezzo il bianco l'ho fatto con un pastello acquerellabile quindi questo è il risultato questa è la mia zona di lavoro io vi ringrazio per avermi guardato e vi mando un bacio grande grande ciao a tutti